Per noi è un dramma, non è possibile adesso farci fronte con risorse nostre assolutamente perché 5 milioni sono 5 milioni. È un fine settimana da fiato sospeso per i sindaci veneti e trevigiani dopo l'annuncio di revisione del PNRR fatto dal ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto con il definanziamento di 13 milioni di euro destinati ai comuni che in questi mesi hanno fatto fronte con risorse proprie agli aumenti legati ai materiali ma ora rischiano di vedere svanire la vera sostanza economica degli investimenti previsti. Abbiamo integrato quei quadri di spesa che pagano il dazio dell'aumento dei costi delle materie prime e adesso sul più bello che i lavori stanno partendo arriva questa tegola. Io mi auguro che ci provvedano a trovare un rimedio così come è già stato ventilato in qualche modo perché non è assolutissimamente accettabile dopo un paio d'anni di lavoro, tempo e risorse messe in pista arrivare alla linea di partenza e vedere la gara annullata. Nel capoluogo Treviso ci sono in ballo 107 milioni di euro per opere considerate strategiche dalla riqualificazione dell'ex caserma Salsa al restauro delle mura cinquecentesche. Per noi potrebbe essere veramente una tragedia. Io non voglio pensare che si possa farmarci indietro da questo punto di vista anche perché ci hanno fatto correre così tanto per arrivare alla progettualità, al definitivo, all'inizio lavori. Dobbiamo rendi contare entro il 2026, Treviso è perfettamente in linea con i tempi dati e io veramente non voglio neppure pensare che ci possa essere uno slittamento. Ci troveremo a dover indebitare i comuni per rispondere comunque a delle esigenze del territorio che avevamo trovato attraverso il PNRR. Solo per il comune di Cessalto si parla di 3 milioni di euro che è una cifra esorbitante, è praticamente un bilancio di un anno. Paradossalmente chi non aveva ottenuto ingenti stanziamenti tira quasi un sospiro di sollievo. Se no di poi fino all'altro giorno ero un po' dispiaciuta di non aver preso un contributo PNRR da 5 milioni insieme ad altri comuni limitrofi che era sulla riqualificazione urbana e scopro adesso che poi di fatto ora in questo momento non ci sono più perché facevano sicuramente parte di quei 13 miliardi che sono stati stralciati di fatto. Ma che si tratti di qualche centinaio di migliaia di euro o di milioni l'auspicio è unanime. Io spero che lunedì ci sarà un chiarimento su questo, perlomeno per le opere che sono già state appaltate. Ecco Grazie 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 Grazie